buongiorno a tutti ragazzi saluta nonna buongiorno Taylor è già stata a funghi ma per me questo è il primo giorno diciamo della vera stagione oggi che è? il 31 agosto stamani aveva messo una pioggia poi invece ci fa andare a funghi si spera almeno fino all'11 mezzogiorno lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi e volete supportare questo canale youtube e poi scrivete nei commenti fateci sapere se anche da voi fanno di già funghi e com'è la situazione eccolo qui il primo il primo è un estatino boletus estivalis eccolo lì uno due tre quattro cinque questi estatini uno e due e questi qui invece sono rossi sembrerebbe almeno no estatino questo è estatino e questo è estatino uguale mi sembravano porca miseria ma fantastica no no sono tutte estatine non son belli eh non son belli per niente così ma che funghi insomma vabbè per ora son questi vediamo di trovarne altri ragazzi un profumo eccezionale mamma mia proprio mi riempie mi riempie mi riempie ora ve lo fa vedere non visti un altro un altro se dia vuole dopo adesso è arrivato in fondo non avevi trovato un kaiser nulla e ora qualche uno lo riempie inizia a trovare per lo meno mi rincuora un po' il nino se no mi ero un po' demoralizzato perché l'aspettativa non erano queste vada un po' più qua un altro altro campo ho mangiato questo sembrava un rosso un pinofilus vedi dai dai ecco come sono trovato meno male meno male eccolo io meno male sotto alle foglie ho visto un rialzetto ci ho messo il bastone eccolo qui vediamo bene dai dei padami sono mangiati questi poveri funghi questo sarebbe stato questo sarebbe stato un bel fungo peccato è un bel fungo non vi uccidete funghi funghi madonna buona meno male bello 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 dio buono come si deve come si deve salve scusi la macchina bello dio buono bello vado ragazzi che soddisfazione dopo questo giro che ho dato fiducia ci credevo con questa cosa signori vi presento un altro fungo eccolo cucù ma lei c'è ragazzi pronti non vedi che bellezza di fungo è questa questo è bello questo è bello ragazzi vada il toccolo di uno vada il toccolo ragazzi sentite il rumore madonna buona questi sono funghi ragazzi vada il toccolo bello madonna buona bello mastodonti oh dio buono bellissimo bello dio ora si è cambiato posto come avete visto dal terreno perché ci ispirava ecco un altro bellino questo purtroppo non è un fungo ma si vede da lontano c'è qualche uomo donna generoso che ha deciso di lasciare un souvenir ma io dico no ma sarà possibile e io le levo dai via ragazzi non le buttate per terra ragazzi ecco 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 il secondo un giorno uncello bellino eh devo dire andiamo ragazzi vediamo che si è iniziato vedi che dai dai che le regina va scocce poverini ora voglio vedere se ci fa trovare la covatella di Edulis perché è la cosa strana tutti singoli tutti singoli ma mi pare parecchio strano guardate se li guardate bellini uno però quelli vicini si lasciano ovviamente guarda 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 belli 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 un po' di funghi a covata se Dio vuole anche se sono vicini ma c'è un affare di mosche che ve lo stanno anche a raccontare quanto danno lui non male non male non male guardate che bellezza va a vedere nonno uno è lì guarda bellino ecco un altro te lo 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 alza 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 alzo va bello guarda è uno qui sopra bellini questi sono bellini eh questo è bello c'ho un bel gambo nonno ecco questo guarda ma dai funghi nonno guarda nonno belli belli ma dai funghi belli davvero belli davvero cazzo guarda questo bianco tutto sotto è questo è bellissimo guarda che gambo bello e questo pavoloso ecco belli questi funghi belli 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 questi funghi taylor l'ha trovati vada bellini questo qui canta un mozziconaccio di sicurezza un mozziconi lì taylor uno là c'è da andare con calma belle eh vada il gambo marcomiselle se spalzano questi sono funghi belli ma è un altro guardate tutto sotto guardate bellini belli 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 giovani allora nonna sei soddisfatta soddisfattissima ora vi inquadro funghi sul tavolo e poi vi lascio a voi con me ecco funghi di oggi non ci si può lamentare ora si pesano e si guardano scrivete nei commenti vantè e io tra qualche giorno pubblicherò il peso esatto si guarda chi ci ha indovinato ciao ragazzi lasciate un bel mi piace se volete supportare il canale alla prossima